raga oggi ritorno da nudi e crudi vediamo che mi prendo oggi eccoci ritornato raga nudi e crudi qui in piazza menù abbiamo tutti i tipi di ostriche raga non stanno tantissime il caviale gli antipasti i primi i secondi un bel prosecchino alla fine del primo ho preso tonnarello cacio e pepe con battuta di gambero rosso allora arrivato al primo guardate che cremina tonnarello cacio e pepe con battuta di gambero rosso guarda che bella cremina sotto bella ora assaggiamo guarda che spettacolo raga quello che ho da assaggiare allora bella cremina raga buona proprio buona cacio bella cremina fatta bene assaggiamo questo gambero rosso guarda raga la battuta di gambero rosso poi ci sta poco bene è spettacolare mamma mia che ve posso dire raga a me piace la cacio e pepe rimodificata così ancora meglio questi sono cremina sono belle cremine non quelle che fanno da gente che liquida buona 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 questa è una cacio e pepe da dieci allora raga per il secondo oggi abbiamo visto grigliata di crostacei lo scampo gamberoni come per esempio a sto bel piattino a sto bello scampo guarda che bello assaggiamo assaggiamo il gambero lo scampo il gambero è buono molto buono allora facciamo lo scampo lo scampo pure è delizioso è molto buono certo brucia brucia in sacco brucia mi piace tantissimo la succhia pura la testa mi piace un botto ma assaggiamo l'altro gambero assaggiamo assaggiamo quest'altro come sempre succhia la testa allora assaggiamo pure questo è molto buono come? un po' di pane no ma grazie pure questo è molto buono alla grigliata ho voto 8 alla pasta voto 10 a me i gamberi fanno un pazzi proprio poco buoni guarda questo è un tortino pistocchi con cioccolato fondente e c'è anche un goccio di rum allora ragazzi siamo al dolce finale assaggiamo questo tortino pistocchi allora non sono mai provato sinceramente però non vedo rum non vedo massa buono nozza tutto cioccolato fondente guarda che spettacolo bello bel cioccolato questo è davvero delizioso raga questo tortino questo io do un voto 9 buono ho mangiato veramente bene leggero ho mangiato pulito sano infatti la caccia pieve però comunque nudi e crudi persona eccezionale simpaticissimo proprietario posto molto bello qui in piazza all'ora di pranzo molto tranquillo magari la sera c'è un po' più di movimento il posto di nudi e crudi voto 9 per quello che ho mangiato oggi ottimo posto ciao ragazzi buona domenica ciao